Un saluto da Ede Software e bentornati alla serie dedicata al modulo ECS. In questo video parleremo delle colonne in muratura, trattando i diversi metodi di verifica e le varie possibilità di rinforzo. Abbiamo preparato il modello di una costruzione rurale, in cui le colonne in muratura giocano un ruolo fondamentale nei confronti sia dei carichi verticali che dell'azione sismica. La struttura presenta una pianta rettangolare, con tre file di colonne di sezione 60x60. Le colonne laterali hanno un'altezza pari a 4 metri, mentre le colonne centrali su cui si imposta la trave di colmo hanno un'altezza pari a 5 metri e mezzo. Sono inoltre presenti dei muri perimetrali su due lati della struttura, aventi spessore 30 cm. La copertura è costituita da un tetto a capanna, le cui falde sono delimitate dai muri perimetrali e da travi in legno. Per quanto riguarda i materiali utilizzati, le colonne in muratura e i muri perimetrali fanno riferimento a un materiale muratura esistente, con tipologia mattoni pieni e malta di calce. Sono stati selezionati i valori medi previsti dalla normativa per i moduli elastici e per le resistenze. Per le colonne in muratura è stata attivata la suddivisione in conci, con una lunghezza preferita di 0,5 metri. Attivando l'anteprima della struttura è possibile visualizzare un'anteprima di tale suddivisione. Bene, detto questo possiamo passare alla creazione del modello strutturale. Bene, creato il modello strutturale andiamo ad apportare le dovute modifiche. Innanzitutto vogliamo che il livello della copertura sia deformabile, trattandosi di una copertura in legno. Selezioniamo quindi il livello 1 e disattiviamo la rigidezza X e la rigidezza Y. Impossiamo ora il corretto vincolamento per le travi in legno. Le selezioniamo e nel gruppo vincoli impostiamo il tipo cerniera-cerniera, in modo che siano semplicemente appoggiate alla struttura portante. Per quanto riguarda le colonne adiacenti ai muri abbiamo alcune considerazioni da fare. Una possibile soluzione è quella di degradarle a biella, impostando un nodo iniziale e finale come cerniera. In questo caso l'azione sismica verrebbe trasferita ai maschi adiacenti e le aste della colonna verrebbero non sottoposte a verifica. Un'altra soluzione, che è quella che adotteremo in questo video, è di considerare le colonne come elementi resistenti al sisma. In questo caso è verosimile considerare i maschi adiacenti come non collaboranti nei confronti dei carichi verticali. Per farlo li selezioniamo e andiamo ad impostare il vincolo finale con traslazione X libera. In questo modo il carico verticale proveniente dal solaio andrà a finire sulla sommità delle colonne. Parliamo ora delle verifiche previste per gli elementi colonna. Selezioniamo uno dei conci e notiamo che nel gruppo verifiche è possibile scegliere tra pressoflessione con controllo di resistenza e pressoflessione con controllo geometrico. La verifica con controllo geometrico consiste nel verificare che la curva delle pressioni sia interna alla sezione dell'asta. Per quanto riguarda invece la verifica con controllo di resistenza, prevede la creazione di un dominio di resistenza, che nel caso delle colonne è di tipo tridimensionale, e la verifica viene svolta in base a questo dominio, che tra l'altro tiene conto delle caratteristiche meccaniche del materiale. Nel nostro caso decidiamo di eseguire la verifica pressoflessione con controllo di resistenza. Lasciamo quindi l'impostazione di default. Vogliamo invece escludere la verifica a taglio per concentrarci sulla pressoflessione. Andiamo quindi a selezionare tutti i conci sfruttando il comando Trova e disattiviamo la verifica a taglio. A questo punto decidiamo di escludere dalle verifiche i conci posti in sommità delle colonne. Quindi li selezioniamo e impostiamo la proprietà da verificare pari a no. Ci portiamo ora nei parametri di calcolo. Decidiamo di eseguire, oltre all'analisi modale, anche l'analisi statica lineare non sismica e l'analisi pushover. Per quanto riguarda l'analisi pushover, utilizziamo le distribuzioni A ed E e le direzioni più X e più Y. Fatto questo, siamo pronti per lanciare l'analisi. Dai risultati dell'analisi statica non sismica, si evince che per la combinazione allo stato limite ultimo, tutti gli elementi soddisfano le verifiche. Selezioniamo uno dei conci e notiamo che nella Property Grid è a disposizione il comando Domini di resistenza, che riporta ai domini di resistenza per questo elemento. Trattandosi di una colonna, il dominio è di tipo tridimensionale e gli assi del grafico rappresentano i valori dello sforzo normale, del momento MY e del momento MZ. E' possibile visualizzare il grafico in una vista 3D, con la possibilità di ruotarlo premendo il tasto Alt e il tasto sinistro del mouse, oppure passare a una delle viste coordinate, come il piano NMY, il piano NMZ o il piano MY-MZ. Spostiamoci nel piano NMY e notiamo che il dominio di resistenza si sviluppa nel semispazio caratterizzato da valori positivi dello sforzo normale, cioè di compressione. Questo è dovuto al fatto che la sezione non è resistente a trazione. Per l'elemento considerato, l'asta 88, sono stati calcolati due domini di resistenza, che differiscono per il valore di γm. Il primo ha utilizzato un γm pari a 2, mentre il secondo un γm pari a 1. Solo il primo è coerente con i risultati dell'analisi statica non sismica, che è l'analisi corrente. Essendo attivo alla visualizzazione delle sollecitazioni, notiamo la presenza di due punti verdi, che rappresentano le sollecitazioni al nodo iniziale e al nodo finale per l'analisi corrente. Si tratta di punti verdi, in quanto sono all'interno del dominio di resistenza. Se fossero fuori, il colore sarebbe rosso. Se attiva la visualizzazione dei riferimenti, ad ogni punto di sollecitazione viene associato un punto blu, che rappresenta il punto sulla superficie del dominio più vicino e con pari sforzo normale. In questo caso l'elemento soddisfa le verifiche. Vediamo come evolve la situazione considerando i risultati dell'analisi pushover. Consideriamo la curva A più X e notiamo che al primo passo della curva pushover tutti gli elementi soddisfano le verifiche. Partiamoci all'ultimo passo e notiamo che compaiono degli elementi che non soddisfano la verifica. Ad esempio, l'asta 88 che abbiamo considerato in precedenza non soddisfa la verifica. E' interessante notare che la posizione della curva delle pressioni è comunque interna alla sezione. Questo perché abbiamo scelto una verifica pressoflessione con controllo di resistenza e non con un semplice controllo geometrico. Selezioniamo l'elemento e dalla finestra delle proprietà passiamo ai domini di resistenza. In questo caso il dominio coerente con l'analisi pushover è il secondo, cioè quello calcolato per un gamma M pari a 1. Con CTRL e il tasto sinistro del mouse facciamo uno zoom nella zona delle selezitazioni. Notiamo che sono disponibili dei punti per ogni passo della curva pushover. La maggior parte di essi è verde, quindi si trovano all'interno del dominio, e solo uno, quello relativo al passo 19, è di colore rosso, quindi esterno al dominio. In effetti, all'ultimo passo della curva pushover, l'elemento non soddisfa la verifica. Il disegno non deve trarci un inganno, può sembrare che il punto 19 sia all'interno del dominio, ma ruotando il dominio di resistenza noteremo che il punto 19 in realtà si trova all'esterno. Il prossimo passo sarà quello di applicare dei rinforzi alle colonne in muratura e verificare il loro effetto sui domini di resistenza e sulle curve di capacità. Prima di farlo, scorriamo rapidamente le varie curve di capacità e memorizziamo le informazioni relative all'ultimo passo della curva. A questo punto annulliamo l'analisi e passiamo all'applicazione dei rinforzi. Selezioniamo uno dei conci e ci portiamo nella scheda interventi. Notiamo che oltre a iniezioni di malta e di atoni artificiali, è possibile applicare uno dei seguenti interventi, FRP, CAM, Reticolatus, Acciaio, RTFRP ed altro. Mentre l'ultimo permette di definire valori personalizzati delle caratteristiche meccaniche, tutti gli altri permettono di definire una cerchiatura della colonna, andando a considerare l'effetto benefico di una pressione di confinamento. In particolare, gli interventi FRP e Acciaio permettono di definire anche un rinforzo longitudinale resistente a trazione. Supponiamo di voler applicare una cerchiatura in FRP. Selezioniamo FRP nella proprietà altri interventi e disattiviamo il rinforzo longitudinale, mantenendo invece la cerchiatura. Definiamo un passo pari a 500 mm e manteniamo un numero di strati pari a 1. Altre proprietà dell'intervento sono disponibili nella finestra dedicata dei parametri di calcolo, alla scheda interventi, nel gruppo FRP, dove è possibile anche definire le caratteristiche meccaniche delle fibre e lo spessore dei nastri. Prima di applicare l'intervento anche agli altri conci, visualizziamo le proprietà meccaniche dell'elemento selezionato. Notiamo che la resistenza a compressione media è aumentata da 3.2 a 3.364 Nm², questo per effetto della pressione di confinamento dovuto alla cerchiatura. Possiamo anche richiedere l'elaborazione dei domini di resistenza per constatare l'effetto dell'intervento sui domini. Selezioniamo il concio rinforzato e ci portiamo nella finestra dei domini di resistenza. Notiamo che questa volta il dominio di resistenza contiene al suo interno il dominio dell'elemento non rinforzato. Confrontando i due domini, notiamo che c'è stata una certa espansione per valori molto alti dello sforzo normale, mentre non vi sono molte differenze per valori bassi di compressione. Questo lascia pensare che l'intervento è più efficace per colonne molto compresse. Nel nostro caso, tuttavia, ci troviamo in condizioni di colonne poco compresse. Le sollicitazioni, infatti, si aggiravano intorno a quest'area del dominio. Questo ci fa pensare che l'intervento di sola cerchiatura non sia sufficiente e dobbiamo ricorrere a un rinforzo longitudinale. Attiviamo quindi il rinforzo longitudinale in FRP e richiediamo l'elaborazione dei domini di resistenza. Questa volta, per effetto del rinforzo longitudinale, il dominio subisce una notevole espansione nella zona di bassa compressione e soprattutto nella zona di trazione, che prima era inesistente. Il colore rosa, rispetto al colore celeste, individua le zone del dominio in cui la crisi è avvenuta per rottura degli elementi resistenti a trazione. A questo punto siamo pronti per rieseguire le analisi. Ad analisi eseguita, verifichiamo gli effetti dell'intervento sulle curve di capacità. Notiamo che ora la struttura raggiunge i valori ben più elevati del taglio alla base e dello spostamento massimi. Scorrendo le varie curve calcolate, notiamo che per entrambe le direzioni e per entrambe le distribuzioni considerate, la capacità della struttura subisce un notevole miglioramento. Un altro aspetto interessante è che all'ultimo passo della curva pushover, i conci che vanno in crisi sono quelli delle colonne non rinforzate. Solo nella distribuzione più y abbiamo il concio alla base della colonna centrale, che non soddisfa la verifica. Lo selezioniamo e dalla griglia delle proprietà accediamo ai domini di resistenza per questo concio. Analizzando i punti relativi ai diversi passi della curva pushover, notiamo che le sollecitazioni si allontanano via via dal centro del dominio, fino ad arrivare all'ultimo passo in cui il punto risulta esterno al dominio. È interessante notare che la fuoriuscita dal dominio sarebbe accaduta molto prima nel caso di una sezione non rinforzata. Bene, concludo ricordando che questa tipologia di intervento che abbiamo visto per le FRP, con rinforzi longitudinali e cerchiatura, è disponibile anche in acciaio. Il rinforzo in acciaio prevede l'inserimento di angolari ai quattro spigoli della sezione rettangolare e di calastrelli per realizzare la cerchiatura. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video.